Proprio in quello stesso momento gli oggetti in argento di Ivan che avevano le sue sorelle diventarono neri. Dissero le sorelle di Ivan e i mariti, ah è successo qualcosa. Il falco si gettò nel mare blu, prese la botte e la portò sulla riva. Il corvo prese l'acqua morta, l'aquila l'acqua viva. Poi ruppero la botte e tirarono fuori Ivan. Il corvo spruzzò su Ivan acqua morta e i pezzetti così si riunirono. L'aquila acqua viva e così Ivan tornò in vita e disse, ah quanto ho dormito. Vieni ospite da noi, dissero i cognati. No fratellini, devo cercare Maria Marievna. Ivan andò da Maria e le chiese, cerca di sapere da Cachè dove ha trovato un così buon cavallo. E così Maria Marievna trovò il momento opportuno e cercò di interrogare Cachè che rispose. Dietro la trentanovesima terra, nel trentesimo regno, oltre al fiume di fuoco, vive Baba Yaga. Lei ha una cavalla sulla quale ogni giorno vola intorno alla terra. Baba Yaga ne ha parecchie di queste cavalle gloriose. Sono stato da lei come pastore per tre giorni. Non le ho perso neppure una cavalla e per questo lei mi ha regalato un puledrino. E come hai fatto ad attraversare il fiume di fuoco? Io ho un fazzoletto che come lo muovo tre volte dalla parte destra si forma un ponte altissimo che il fuoco non può raggiungere. Maria Marievna ascoltò e raccontò tutto a Ivan Sarjevic e gli diede anche il fazzoletto che aveva preso a Cachè. Ivan si diresse verso il fiume di fuoco, camminò a lungo senza né bere né mangiare. Gli andò incontro l'uccello dei mari con i suoi piccolini. Disse Ivan, mangerò un solo pulcino. Non mangiare, Ivan Sarjevic, lo pregò l'uccello dei mari. Tra poco ti servirò. Andò oltre. Vide nel bosco un alveare di api. Prenderò un po' di miele, disse, rispose la madre regina delle api. Non toccare il mio miele, Ivan Sarjevic, tra poco ti servirò. Ivan lo toccò e passò oltre. Gli andò incontro una leonessa con il leoncino. Mangerò almeno questo leoncino, ho una tale fame. Non lo toccare, Ivan Sarjevic, lo pregò la leonessa. Tra poco ti servirò. Va bene, che sia come vuoi tu. Rimase affamato, camminò, camminò. Ecco la casa di Baba Yaga e intorno alla casa teste umane su undici aste e la dodicesima vuota. Salve nonna, salve Ivan Sarjevic, sei venuto per tua buona volontà o per necessità? Sono venuto per meritarmi il tuo cavallo atletico. Permettimi Ivan, devi servirmi non un anno, ma in tutto tre giorni. Se pascolerai le mie cavalle, io ti darò il cavallo atletico, ma se non lo farai, non ti adirare, la tua testa sporgerà sull'ultima asta. Ivan acconsentì. Baba Yaga gli dette da mangiare e da bere e gli ordinò di darsi da fare. Aveva appena portato le cavalle nel campo, ma cominciarono a muovere la coda e ognuna per conto suo a correre nei prati. Ivan non fece in tempo nemmeno ad alzare gli occhi, che erano già sparite. Allora cominciò a piangere, si sedette su una roccia e si addormentò. Era già al tramonto quando arrivò l'uccello dei mari e lo svegliò. Alzati Ivan Sarjevic, le cavalle ora sono a casa. Sarjevic si alzò e tornò a casa. Baba Yaga stava gridando alle sue cavalle. Perché siete tornate a casa? E come potevamo non tornare? Degli uccelli sono arrivati da tutto il mondo e per poco non ci beccavano gli occhi. Ebbene domani non correrete nei prati, ma vi disperderete nei boschi fitti. Ivan Sarjevic la notte dormì a lungo. La mattina Baba Yaga disse Guarda Sarjevic, se non pascolerai le cavalle e se ne perderai anche una sola, la tua testa matta sarà infilzata sul palo. Ivan mandò le cavalle nel campo. Le cavalle mossero la coda e si dispersero nei boschi fitti. Ancora Sarjevic si sedette sulla pietra, pianse e pianse, e alla fine si addormentò. Il sole era al tramonto quando arrivò la leonessa. Alzati Ivan Sarjevic, le cavalle sono tutte radunate. Ivan si alzò e andò a casa. Baba Yaga più di prima gridava alle sue cavalle. Perché siete tornate a casa? E come potevamo non tornare? Sono arrivate bestie feroci da tutto il mondo e per poco non ci divoravano. Ebbene domani fuggirete nel mare blu. E di nuovo la notte Ivan dormì a lungo. Al mattino Baba Yaga lo mandò a pascolare le cavalle. Se non pascolerai, la tua testa matta sarà sul palo. Ivan mandò le cavalle nel campo. Le cavalle mossero la coda e scomparvero. Fuggirono nel mare blu. Stavano nell'acqua fino al collo. Ivan si sedette sulla pietra, pianse e si addormentò. Il sole era già tramontato, che arrivò l'ape e disse alzati Sarjevic, le cavalle sono riunite, ma come tornerai a casa di Baba Yaga? Non ti far vedere. Vai nella stalla e nasconditi dietro la mangiatoia. Là c'è un poledro non buono, sta sull'etame. Tu rubalo nel cuore della notte e vattene. Ivan si alzò, andò nella stalla e si stese dietro la mangiatoia. Baba Yaga gridò alle cavalle, perché siete tornate indietro? E come potevamo non tornare? Sono arrivate api da tutto il mondo e hanno cominciato a pungerci, che per poco non ci distanguavano. Baba Yaga si addormentò e a mezzanotte in punto Ivan rubò il poledro non buono, lo sellò, lo cavalcò e galoppò verso il fiume di fuoco. Arrivato al fiume di fuoco, mosse tre volte il fazzoletto dalla parte destra e all'improvviso ecco apparire un ponte altissimo sul fiume. Sarivici attraverso il ponte, poi mosse il fazzoletto due volte a sinistra e il ponte divenne sottile sottile. La mattina Baba Yaga si svegliò e vide che il poledrino non c'era. Si lanciò all'inseguimento, saltò sul mortaio di ferro, agitò il pestello, con la scopa fece sparire le tracce. Arrivò al fiume di fuoco, dette un'occhiata e pensò, è un buon ponte. Passò sul ponte, ma appena arrivata a metà il ponte crollò e Baba Yaga cadde nel fiume e bruciò. Ivan Sarivici dette da mangiare al puledro nei prati verdi e così diventò un bel cavallo. Poi andò da Maria Marievna, che corse verso di lui e si gettò tra le sue braccia. Come hai fatto a salvarti dalla morte? Poi ti racconterò. Dai, vieni con me. Ho paura Ivan, se ci raggiunge di nuovo Cascieli immortale ti farà pezzi un'altra volta. No, non ci raggiungerà. Adesso ho un cavallo glorioso e atletico. Vola come un uccello. Salirono in sella al cavallo e partirono. Cascieli tornava a casa e il cavallo incespicava. Cos'hai da incespicare tu? Forse che fiuti guai? È arrivato Ivan Sarivici e ha portato via Maria Marievna. Possiamo raggiungerli? Lo sa Dio. Ora Ivan ha un cavallo atletico meglio di me. No, non lo sopporterò. Vado all'inseguimento. Passò poco tempo. Passò molto tempo. Cascieli raggiunse Ivan e cadde per terra mentre voleva fenderlo con la sua sciabola tagliente. Ma in quel momento il cavallo di Ivan Sarivici colpì con tutta la sua forza con lo zoccolo Cascieli immortale e gli fracasso la testa e Ivan lo finì con una mazza. Poi Sarivici ammucchiò della legna, fece un fuoco e ci bruciò Cascieli immortale e sparse la sua cenere nel vento. Maria Marievna salì in groppa al cavallo di Cascieli e Ivan sul proprio e andarono ospiti prima del corvo, poi dell'aquila ed infine del falco. Da qualsiasi parte andavano erano accolti con gioia. Ah, Ivan Sarivici, eravamo tristi che non ti vedevamo. Però non inutilmente ti sei dato da fare. Una tale bellezza come Maria Marievna c'è da cercarla in tutto il mondo. Non ne trovi un'altra. Festeggiarono, banchettarono e infine tornarono nel proprio regno dove vissero felici e contenti. Grazie. Grazie.